Un abbraccio come un sigillo, uniti nella missione, nella malattia e nell'epilogo. Don Pietro Vittorelli e Benedetto XVI, l'abate ed il Papa, entrambi emeriti. Ambe due hanno sperimentato che una fede luminosa e piena di vigore, se non è sorretta dal fisico, non può far fronte da sola a ciò che richiede la guida di una comunità, sia essa diocesana o planetaria. Da oggi Don Pietro resta un punto di riferimento, un faro, ma non sarà più lui la guida della diocesi di Monte Cassino. Don Pietro nasce a Roma il 30 giugno del 1962, da genitori originali di San Vittore del Lazio. È qui che riceve la cresima dall'abate Martino Matrunola, ma la sua giovinezza la trascorre tutta nella capitale, dove consegue la maturità scientifica e poi la laurea in medicina e chirurgia. Il 24 settembre 1989, all'età di 27 anni, entra come postulante nell'abbazia di Monte Cassino, emette la sua professione monastica il 13 gennaio 1991 e viene ordinato presbitero il 26 giugno 1994. All'interno della congregazione benedettina ricopre diversi incarichi e cura personalmente alcune pubblicazioni e mostre anche per conto della Santa Sede. Il 25 ottobre 2007, la comunità monastica di Monte Cassino lo elegge a bate, elezione che viene confermata da Papa Benedetto XVI il 13 novembre 2007, in occasione della festa di tutti i Santi Monaci. Con la nomina di Ratzinger, Don Pietro diventa il 191esimo successore di San Benedetto. Il 31 dicembre 2007, Vittorelli prende possesso del Palaggio Badiale e della Chiesa Madre di Cassino, nonché dell'intera diocesi. Durante il suo magistero si ricordano la grande vicinanza ai fedeli, i richiami sferzanti alla politica, le parole dure sulle problematiche del territorio, in primissi il lavoro. Tematiche attuali e vicine alle persone, ma un occhio di riguardo anche per gli ultimi, con la stretta sinergia tra diocesi e caritas, l'apertura della Casa della Carità, che proprio durante il suo mandato ha visto la luce. Poi nel 2009, la visita di Papa Ratzinger, Benedetto XVI nella città di San Benedetto, un evento fortemente voluto da Padre Abbate, segno del legame che stringe la Santa Sede al Sacro Monte Cassinate. Accade spesso che salendo a Monte Cassino, le persone più attente e sensibili siano rapite da un senso di stupore e incantate dalla bellezza del luogo e da quel genius loci che rapisce il cuore e la mente. Ma se a esprimere questi sentimenti è il Papa, ci sembra, come cristiani, che sia la Chiesa intera a esultare di gioia pasquale nel cuore del monachesimo. Questo, un breve passo del libro di Don Pietro sulla visita di sua santità a Cassino, una visita la cui eco non si è esaurita quel 24 maggio di quattro anni fa. Poi la malattia, la sofferenza, il ritorno in Abbazia e le celebrazioni a cui Don Pietro in quest'ultimo anno non si è mai sottratto, come non si è sottratto all'ultimo atto, quello delle dimissioni. Un passo indietro che lo lega in maniera indissolubile, come quello abbraccio a Giosef Ratzinger, Benedetto XVI.